GF VIP 7, Ele Noire Ferruzzi ha baciato Daniele Moro sotto le coperte, l'intervento social dell'ex vippona. Ele Noire Ferruzzi e Daniele Dal Moro sono stati due tra i vipponi più discussi dell'ultima edizione del GF VIP. E non solo per il loro percorso nella casa ma anche per il rapporto che si era creato tra i due. Molti infatti si sono chiesti cosa fosse realmente successo tra Ele Noire e Daniele a dare in un certo senso una risposta. Grazie ad alcune mosse social, è stata proprio l'ex vippona. Ma facciamo un passo indietro. La Ferruzzi, attraverso un post su Instagram, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality, e nello specifico della sua partecipazione, e lo ha fatto con queste parole. Successivamente, sotto al post di Ele Noire si sono susseguiti una serie di commenti e tra loro uno ha sottolineato un particolare. ovvero, come in realtà a GF ci siano stati dei baci tra i due vipponi sotto le coperte. Che però le reality ha sempre nascosto. Ed è proprio a questo commento che la Ferruzzi ha reagito, commentando con le emoji degli applausi. oltre che con un like, sintomo del fatto evidentemente qualcosa tra i due c'è stato.